Continua a guardare Non mi dovrei dire se ciò che senti è scratching O brushing Ok, che numero è? Molto bene, che numero è? Bene, che numero è? Ciao 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 Grazie di essere qui Qui, qui, qui Come oggi Adesso conta? Quante volte dirò qui? Da adesso Qui, qui, qui Primo compito fatto Oggi sono qui appunto per un altro video di follow my instructions Quindi segui le mie istruzioni Vi piacciono tantissimo questi video, me li avete richiesto da me Eh sì, quindi eccole un'altra seconda istruzione che vi darò È quella di guardare un po' fuori la telecamera Qui, qui esatto Di nuovo segui il mio dito Un po' fuori Segui 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 qui E mentre guardi qui Di provare a contare quante volte passerò con il pennello sul tuo viso, ok? Lo farò molto lentamente Così potrei contarle Intanto continuo a guardare qui Ok, cominciamo Continua a guardare fuori Dallo schermo Dallo schermo Hai contato? Non è vero E' un po' da questo Sì Un po' da questa parte Quanto bene seguilo, 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 esatto ti ho portato di nuovo fuori dello schermo ma dall'altra parte quindi se non l'hai fatto adesso di nuovo segui il pennello e di nuovo seguilo, seguilo, seguilo fino a qui adesso ti aggarezzerò il viso e dovrai contare quante volte lo farò e lo divideremo anche qui in tre giorni, ok? quindi comincia ad aggarezzarti il viso mentre tu guardi dall'altra parte quanti erano? tre, ok? di nuovo adesso aumentiamo tre, due, uno, iniziamo guarda sempre qui e continuo ad aggarezzarti il viso calcimento continuo cinque ok ottima volta segui, segui, segui il pennello segui la fine qui che il tuo sguardo rimanga qui ok? e adesso dimmi quanti segui lì sto contando anche io 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 lì sei 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 perdona il mio stomaco adesso adesso sempre continuando con la visualizzazione periferica con la visuale periferica dopo ti avviso non ti servirà più la vista quindi potrai chiedere gli occhi sempre con la visuale periferica voglio che tu mi dica che numeri vedi, ok? quindi segui il pennello un attimo segui, 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 segui segui, segui, segui benissimo adesso sempre guardando qui quindi fuori dallo schermo dimmi che numero è? benissimo che numero è? molto bene che numero è? bene che numero è? quattro, ok? che numero è? due benissimo adesso prendi il tuo sguardo da qui segui 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 fino a questa parte ok benissimo adesso il tuo sguardo da venire qui e dimmi sembra ok? non me li vedi ok? partiamo tre benissimo ancora tre uno questo è difficile sei incredibile veramente fantastico hai seguito le istruzioni perfettamente adesso ultima istruzione che richiederà la vista ora 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 devi prendere il tuo dito e mettere mi piace il video vai tre due uno perfetto e adesso se vuoi puoi chiudere 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 non non ci sarà bisogno della vista matura dell'ubito ok? come prima cosa dovrai dirmi che cosa ti ricorda questo suono ok? esatto ricorda un pochino il suono della piozza molto bene adesso quant'è insieme a me? fino a dieci e poi cambierò suono però intanto senti che materiale è? secondo te che materiale è? esatto è cartone molto bene molto bene quindi ancora dieci nove tre otto sete sete cinque quattro tre due uno fatto 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 adesso 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 ti chiedo ti chiedo ti chiedo di dirmi che cosa preferisci fra queste cose ti farò delle domande semplicissime semplicissime ok? e tu mi dovrai rispondere la prima cosa che ti viene in mente proprio risposta immediata non ci riflettere d'accordo? molto molto bene allora preferisci il colore rosso il colore blu molto bene preferisci pizza o sushi molto bene preferisci vedere l'alba o il tramonto molto bene preferisci preferiresti fare un piaggio a New York o un piaggio animativo benissimo piaggio o sole mare o montagna capelli biondi o capelli mori o della pesca o del limone o del limone o ok coca cola o fant fant bene benvenici un po' stocato un po' sovrat bigane roma o milano o milano o no milano milano molto bene adesso invece ti dirò un colore e tu mi dovrei dire dovrei pensare a un oggetto a tutto qualsiasi cosa di quel colore ok, la prima cosa che ti ho in mente può essere qualunque cosa, ok? rosa rosa nero nero giallo giallo io penso del sole verde 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 azzurro azzurro e a questo bianco 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 la neve per me no l'ultima marrona marrona no questo non lo posso però scondirmelo molto bene molto bene stai seguendo le istruzioni in maniera impeccabile impeccabile quante sei la persona? impeccabile cinque cinque molto molto bene adesso ti farò sentire tre suoni e tu dovrai indovinare che materiali sono? beh se lo vedete ogni suono durerà venti secondi ok? e se vuoi contarli con me bene primo suono etroplastica o molto bene molto bene è una vetro vetro e il colore è giallo giallo e dentro c'è un olio 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 lo senti? provo a sentire lo senti? lo senti? questo suono? pensi o no? lo senti? lo senti? molto bene secondo secondo venti secondi esatto si tratta del legno 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 terzo venti secondi sempre molto 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 bene però plastica plastica adesso mi dovrei dire ogni volta se mi sentirai alla tua destra o alla tua sinistra quindi in tante parti mi sentirai ok? io semplicemente dirò delle parole ok? anzi non dirò delle parole ma farò preciso sul microfono ok? cominciamo dimmi sempre dove mi senti ok? prova a concentrarti su dove proviene il suono che stai ascoltando che ancora bene e adesso mi dovrei dire se ciò che senti è scratching o brushing ok? ogni volta che lo fai quindi ok? ogni volta che senti che cambia dimmi o prova a capire comunque ok? bene ok? 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 molto bene molto molto bene adesso siamo quasi alla fine e io davvero ti ringrazio perché hai fatto un lavoro eccellente e ringrazio di essere arrivato fin qui di aver prestato attenzione fin qui di aver seguito le mie istruzioni d'accordo? benissimo adesso io ti ripeterò tre numeri e tu dovrai ripetervene ok? quindi 5, 3, 4 9, 3, 5 molto bene 8, 1, 2 bene 3, 6, 9 3, 2, 1 molto bene 3, 6, 1 1, 2, 2, 5, 6, 1 2, 3, 4, 7, 1 9, 8, 0 molto bene adesso dovrai seguire le mie indicazioni a livello fisico e questo ti permetterà di raggiungere uno stato di rilassamento estremo intanto devi metterti comodo quindi la tua priorità adesso è metterti in una posizione comoda d'accordo? adesso prova, concentrati sulla punta della testa senti la punta della testa concentrati sul fatto che punti verso l'alto ok? senti 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 che punta ok? sei stragiato che punta davanti a sé ok? presta attenzione alla radice dei capelli e cerca di rilassare il più possibile questa parte molto bene adesso passa alle sopracciglia concentrati sulle sopracciglia pensa solo alle tue sopracciglia quanto le hai? due benissimo concentrati su di loro su di loro e adesso a rilassare senti che si decondraggono senti che si abbassano e si avvicinano agli occhi avvicinano 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 adesso possiamo agli occhi gli occhi devi pensare che cerchino di rientrare un pochino in dentro ok? quindi gli occhi si stanno coricando si stanno stendendo e il peso degli occhi si appoggia sulla testa ok? anche gli occhi sono perfettamente rilassati e chiusi ovviamente adesso passiamo agli orecchi gli orecchi anche le orecchie sono di solito tese concedere prima sull'orecchio destra poi sull'orecchio sinistra e rilassa le orecchie e con le orecchie sentirai che anche gli occhi piano piano si rilassano senti tutta la parte centrale del tuo viso rilassarsi prendi coscienza di questa parte e rilassa lasciala andare completamente lasciala cadere verso il cuscino concentra di ora sulle labbra apri un pochino la bocca se vuoi e lasciala cadere rilassata apri la bocca leggermente sono chiusa benissimo benissimo e adesso pensa ai tuoi denti pensa alle dengine pensa che sono perfettamente rilassate puntano verso il basso puntano al cuscino adesso concentrati sulla lingua rilassa completamente la lingua lo so non è rilassata ma adesso rilassa completamente 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 la lingua sul palato molto molto bene ultima cosa rilassa la macella esatto il modo che si appoggia anche questa la testa e la cuscina e dovresti sentire tutto il viso completamente completamente rilassato adesso che il tuo viso è rilassato devi ascoltare attentamente le mie parole e anche se non lo vedi devi immaginarti immagina 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 che tutto andiamo facendo sempre più buio cioè sempre meno lungo e piano piano sto passando delle luci piano 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 e adesso c'è una luce bassissima che davanti al caldo la stai immaginando? mi ha fatto molto bene adesso ti chiedo di concentrarti anche sul suono del fuoco che stai ascoltando è come una candela è caldo come suono ti abbraccio molto dolce legato e ti accompagnerà più piano verso il sonno col tuo rilassato ti chiedo di l'ultima volta concentrarti sulla lingua delle parole che andrò a dire quindi cominciamo con buonanotte 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 adesso cercare di capire che lingua è questa buona, 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 buona notas y dulces, 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 sueños in spagnolo molto molto bene molto molto bene hai fatto un lavoro incredibile ultimo, buon noi, buon noi, buon noi vedi, show, you, them, show yourself, show yourself adesso ti chiedo di immaginare il pasticcino più buono che ci sia tu sei quello, quindi buonanotte pasticcino al lo devi dire a te e sai cosa c'è adesso? esatto, che li spera